Il Consiglio Comunale di Chieti ha approvato all'unanimità una mozione presentata dai partiti di opposizione con la quale si chiede alla società Teate Servizi di bandire una gara per l'assunzione di nuovi ausiliari del traffico e di tenere conto delle professionalità già acquisite. Un documento politico che di fatto apre la possibilità ai lavoratori della Blue Parking, la società alla quale il Comune di Chieti ha revocato il servizio di gestione dei parcheggi, di essere riassorbiti dalla Teate Servizi SRL che attualmente si occupa dei 1700 parcheggi a pagamento della città e che sembra non abbia personale sufficiente per coprire tutte le attività da svolgere. Primo firmatario della mozione il capogruppo di Chieti da Capo Enrico Raimondi che ascoltiamo insieme al sindaco Umberto Di Primio. Chiediamo che la Teate Servizi nella pubblicazione del bando dell'avviso pubblico che abbia la selezione contempli dei titoli valutabili anche il fatto di aver già svolto attività lavorativa nell'ambito di questo appalto. Attribuire un punteggio più elevato, cosa che è consentita sia alla luce della giurisprudenza sia alla luce della prassi amministrativa, potrebbe dare una risposta non demagogica e non populista a chi oggi rischia di perdere l'occupazione. C'è da dire che i sindacati stanno inutilmente agitando i giornali per il momento e null'altro, dimostrano di non conoscere le norme e illudono i lavoratori di poter ottenere un diritto che realmente essi non hanno. La cosa più giusta da fare, l'unica che garantisce i lavoratori oggi, è questa, cioè dare la possibilità a chi dovrà gestire la fase dell'avviso per la selezione personale di inserire una previsione in favore di coloro che abbiano già esperienza. E questo dovrebbe dare a chi ha già lavorato qualche chance in più rispetto a chi non ha fatto.